Vorrei imparare a contare, vorrei imparare a contare, vorrei indagare e capire il mistero della matematica, però mi risulta molto difficoltoso l'apprendimento, perché se immagino 2 più 2, non vedo i numeri, ma per esempio 2 fiammelle, e se conteggio il risultato, 4, che i libri mi riportano come computo esatto, beh, non scordo nella mia memoria visiva 4 fiammelle in fila, bensì un incendio, credo di non essere tagliata per i calcoli, forse sono tagliata per i vicendi.